di android blog.it registriamo oggi questo video con galaxy s5 in full hd una fotocamera vi ricordo da 16 megapixel che abbiamo già visto nella registrazione video in 4k proviamo una messa a fuoco vedete molto veloce nella mettere a fuoco i vari dettagli proviamo un contro luce anche se veramente poca anche un pan veloce infine uno zoom digitale fino a 4 per durante il quale non perde molto la qualità il nostro video anche se forse diventa meno stabile